Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo le traslazioni. Allora, come prima cosa ci disegniamo un poligono qui e dopo aver disegnato il poligono è importante disegnarsi anche un vettore. Quindi utilizziamo questa funzione, il vettore può essere disegnato in qualunque posto del monitor. Allora, questo vettore va da E a F. A questo punto selezioniamo traslazione, selezioniamo l'oggetto da traslare, quindi la figura, e il vettore di traslazione e compare la nuova figura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la figura di partenza e questo quadrilatero, un trapezio, ABCD, è stato traslato ed è diventato A' B' C' D' secondo il vettore di traslazione, questo è il vettore. Il vettore esprime una lunghezza, una direzione, quindi una lunghezza, una direzione, un verso, quindi dato anche dalla freccia. Allora, come vedete, cosa vuol dire il vettore di traslazione? Che ogni punto è stato spostato, no? secondo questo vettore. Quindi i vertici, A è diventato A' secondo questo vettore, B è diventato B', C è diventato C' e D è diventato D'. Il vettore potevo metterlo esattamente dove volevo. Ecco che GeoGebra ci torna utile perché noi possiamo spostare F nel piano, il punto F e vedo dove finisce questa figura. E' chiaro che quello che viene mantenuto è sempre che ogni vertice, ogni punto di questa figura viene traslato secondo il vettore, quindi A va in A' secondo questo vettore. E, ripeto, questo vettore potevo metterlo esattamente in qualsiasi punto dello spazio. Vi faccio vedere cosa accade con un'altra figura, ad esempio un rettangolo e un altro vettore un po' più corto, è F. E' chiaro che A finisce in A', B finisce in B', C finisce in C', D finisce in D'. Una cosa importante quando si parla della traslazione è che tutte le lunghezze di questa figura e l'area di questa figura viene mantenuta durante la traslazione, durante questa trasformazione si chiama isometrica. Noi stiamo trattando le isometrie, iso uguale, metrie, la misura, quindi le misure di queste figure durante queste trasformazioni isometriche vengono tutte mantenute. Per ultima cosa, ragioniamo un attimo sul vettore. Il vettore ha un'intensità di spostamento che è dato dalla lunghezza di questa freccia e il vettore ha una direzione dello spostamento, quindi l'inclinazione di questa linea e il verso è dato dalla freccia. Infatti, questo stesso vettore lo ha disegnato in 7, 3 e in 9, 1 con E sopra e F sotto, E in 7, 3. Quindi la freccia va dall'alto al basso, motivo per cui la figura viene spostata e viene proiettata, viene traslata sotto. Nel momento in cui io, se io inverto questi due punti, metto la E sotto e la F sopra, è chiaro che la figura deve terminare sopra, no? Perché si segue il verso della figura che è dato dalla freccia. Quindi questo è un po' il tutto. Bene, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Grazie e alla prossima video-lezione.